Ok Buongiorno, siamo qui per presentare i 10 punti prioritari per Adesso Trieste che sono stati selezionati a partire dal programma che ha oltre 100 pagine ed è stato costruito a più di 200 mani sono stati selezionati questi 10 punti forti dai nostri soci quindi abbiamo sottoposto il programma ai soci abbiamo chiesto quali dovevano essere secondo loro le priorità e queste sono quelle su cui concentreremo la campagna elettorale che inizia in questi giorni Al centro delle nostre priorità c'è sicuramente il tema del lavoro la dignità del lavoro, la necessità di nuovi insediamenti produttivi e sostenibili che noi immaginiamo in Porto Vecchio ma anche la questione della mobilità sostenibile, della centralità delle micro aree e dei servizi territoriali di una riforma del decentramento che porti la partecipazione della cittadinanza dentro le istituzioni del comune una diversa gestione dei rifiuti che punti alla riduzione dei rifiuti e una differenziata molto più forte con un sistema di porta a porta deciso insieme alla cittadinanza tanti altri punti che noi consideriamo prioritarie e sui quali ci piacerebbe al più presto visto che ormai la campagna elettorale è entrata nel suo vivo e non possiamo confrontarci direttamente anche con gli altri candidati e le altre candidate siamo convinti che un confronto chiaro, trasparente sia la migliore maniera per permettere ai cittadini di decidere quale sia la migliore alternativa per il governo della città dei prossimi 5 anni, non so